L'allarme non è nuovo. Da oltre quattro lustri, i medici ribadiscono come la categoria in vecchi. Solo per Padova sono 174 i medici che andranno in pensione entro il 2026. Hanno sorribili se il 2025, quando saranno 47. Pochi inoltre i medici in formazione, precise il presidente dell'ordine di Padova, Domenico Crisara. Per la regione Veneto, se tutto andasse secondo quello che è cosa, ci sono, con l'ultimo concorso che è stato aperto con un anno di ritardo, 800 medici in formazione per tutto il Veneto. Bisogna tenere conto però che già 250 hanno già la convenzione, quindi vanno ad escludere, quindi da 800 rimaniamo a 550. Bisogna vedere quanti finiranno il corso, per cui un numero assolutamente insufficiente. Dati Veneti, nel 2026 i pazienti assistiti da ogni professionista passeranno dagli attuali 1.600 a 2.350, con gli anziani che da 450 a medico diventeranno 700. Nel frattempo anche le USCA, le unità speciali di continuità assistenziale, sono state ridotte a 30 e dal 30 giugno, sulla base del decreto ministeriale, saranno chiuse. Un sostegno fondamentale nel periodo della pandemia le USCA, per rispondere all'emergenza dei medici sul piatto alcune proposte. Dare al medico la possibilità di fare il medico un'ora, un'ora e non 20 minuti il segretario e 20 minuti l'OS, quindi fornendo i medici, aggruppandoli prima di tutto in modo fisico e anche in modo virtuale, utilizzando telemedicine, utilizzando tutte le tecnologie che ci sono a disposizione oggi, e dare personale di studio, quindi personale di segreteria 12 ore al giorno, dare operatori sociosanitari specializzati, OS, sul modello delle medicine di gruppo integrato.